3.800 è sicuramente un prodotto che ci dice dove stiamo andando, stiamo andando nel mercato del sud. Questo è un prodotto completamente nuovo con una nuova generazione di i cockpit specifico per questa vettura che poi verrà confermato ulteriormente con la 5.800. Peugeot vuole attaccare il mercato del sud. Con quest'anno abbiamo terminato il distacco con il marchio Citroen perché vogliamo fare di di esso un brand a sé stante. È chiaro che è un esercizio interessantissimo e sfidante quello di lanciare nel premium il lusso alla francese. Il Citroen l'abbiamo visto, è cambiata, questa è la terza generazione della C3, questa è una vettura completamente nuova però che incarna ancora il DNA Citroen in pieno, è molto più tecnologica, una tecnologia facile da usare e molto molto immediata.